Foggia a show a Messina in uno degli anticipi della trentatresima giornata di campionato del girone C di Serie C. Al Franco Scoglio finisce 0-3 a favore dei rossoneri che ottengono la sesta vittoria nelle ultime otto giornate e salgono a quota 45 punti in classifica consolidando la loro decima posizione. Cudini complici di assenze di Riccardi e Vezioni squalificati rivoluziona la squadra da un punto di vista tattico e torna al 4-3-3 con Tencorang, Mezzala a destra e con Silvestro e Saline e Sterzini. Modica replica con un 4-2-3-1 nel quale Zunno è l'unico riferimento avanzato in cronaca. Partono meglio i padroni di casa, pericolosi prima al minuto 4 con un colpo di testa ravvicinato di Emmausso che esaurisce la sua corsa di poco a lato e poi al minuto 9 con un destro a giro di Zunno Berre spinto in corner da Perina, al primo squillo però a passare sono gli ospiti e al minuto 20 quando un cioccolatino di Millico libera il tiro Gagliano che a tu per tu con Fumagalli non sbaglia con il mancino. 0-1 per i satanelli, i padroni di casa non stanno a guardare al minuto 26 che ricostruiscono un'occasione per il potenziale pareggio immediato con il solito Emmausso che con il destro dal limite esalta i riflessi di Perina. I pugliesi tengono con ordine e 12 minuti dopo rischiano di raddoppiare sempre con Gagliano al termine di un'azione simile a quella dalla quale era scaturita la rete del vantaggio. Questa volta però il mancino dell'ex Avelino viene respinto da Fumagalli e la penultima emozione di una prima frazione che si chiude con una conclusione dal limite di Franco che si infrange sui guantoni di un sempre attento Perina al minuto 41. La ripresa inizia con un episodio chiave, il rosso estratto ai danni di Manette e spulso per doppia munizione al minuto 53 per un intervento in ritardo su un avversario. Tre minuti dopo i rosso-neri le indirizzano in modo definitivo. Disastro difensivo di Picciardi che perde il pallone nel contrasto con Millico. Sulla sfera arriva Tascone che non può far altro che insaccare da due passi. Peloritani tramortiti ma non sconfitti e capaci di rendersi pericolosi al minuto 74 con Plescia il cui mancino in spaccata finisce di poco a lato. I titoli di coda sull'incontro scorrono al minuto 81 quando Frisenne interviene in maniera maldestra su Rolando e rimedia un rosso diretto lasciando la squadra di Modica in nove. In pieno recupero a quel punto i ragazzi di Cudini ne approfittano e concedono il tris. Lo fanno con uno strepitoso destro a giro di Millico abile a beffare Fumagalli in uscita termina così dopo tre minuti di extra time il periodo d'oro dei rossoneri continua.